Ritorna ad attualità la possibile riapertura al traffico di Via Carducci e Via Marconi, due arterie del centro cittadino di Ponte Cagnano-Faiano, che da molti anni sono interdette alle automobili. L'istituzione delle due aree pedonali, che collegano Corso Umberto a Via Europa, non ha prodotto i benefici sperati al tessuto economico cittadino, tanto da indurre i titolari delle poche attività rimaste a valutare la possibilità di chiedere all'amministrazione il ripristino delle precedenti condizioni. A chiedere un tavolo di confronto il gruppo consigliare Movimento Libero. Via Carducci e Via Marconi, afferma il consigliere Angelo Mazza, potrebbero sicuramente essere oggetto di un nuovo intervento di riqualificazione complessiva, con la predisposizione di spazi ludici, la sistemazione del verde e la valutazione di azioni efficaci sul piano viario.